Prossimamente su Planet Web TV, il Tempio della Politica, il nuovo spazio di GDN Comunicazione che vi terrà informati sui programmi e le tematiche elettorali in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. Approfondiremo con i candidati ospiti in studio i temi principali che saranno al centro di questa campagna elettorale. Il Smart TV su PlanetWeb.tv e sul canale YouTube e la pagina Facebook sempre di PlanetWeb.tv. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!